La volontà Lamborghini è la Lamborghini Huracan che è successore della Gallardo e che abbiamo lanciato esattamente questa mattina alle 8 per la prima volta in anteprima mondiale. La Huracan dispone di un motore 10 cilindri, 5,2 litri di cilindrata, 610 cavalli, 4 ruote motrici di trazione integrale permanente e per la prima volta viene utilizzata sulla Lamborghini un sistema a doppia frizione, abbiamo sospensioni intelligenti Magneride e anche un sistema adattivo di guida a geometria variabile. È una vettura completamente nuova come design, è stata in grado di ridefinire completamente il concetto Lamborghini anche se ne mantiene alcuni stilemi che proprio la fanno inquadrare subito come che è Lamborghini. Una delle caratteristiche principali sono gli sharp edge, quindi gli spigoli vivi che ci sono nella fiancata della vettura, nel posteriore e nell'anteriore che sono una chicca sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista dell'interpretazione e della sottolineatura del design della nostra vettura. Arriverà in concessionaria verso fine maggio inizio giugno.